bene ragazzi ciao a tutti finalmente oggi è arrivato il primo drop della nuova stagione autunno-inverno 2022 di Dolly Noir e visto che per noi questo è sempre un pochino un momento catartico quando arrivano i pacchi e sono da scattare per scoprire che cosa c'è all'interno abbiamo deciso di provare a condividere con voi magari può essere una cosa un po' diversa dal solito quindi prendiamo i nostri due bei pacconi giganti armiamoci di forbici e scopriamo insieme a che cosa c'è all'interno bene allora sicuramente questo è uno dei momenti più estasianti del nostro lavoro perché ripercorriamo un po' il passato in quanto tutti gli acquisti noi li facciamo un anno prima dell'uscita quindi anche noi non ci ricordiamo esattamente bene che cos'è che acquistiamo vediamo qua che ci sono un po' di t-shirt e per l'esattezza saranno cinque modelli di t-shirt più due felpe le felpe ve le faremo vedere in una maniera molto molto veloce perché essendo ancora estate magari non è che avete tutto questo interesse però insomma abbiamo questa variante lilla fighissima con il fungo allucinogeno e questa variante gialla che è una collaborazione con luca barcellona collaborazione che possiamo trovare sia sulla felpa che su altre t-shirt che arriveranno anche nei prossimi drop e cominciando alle t-shirt troviamo la grafica del logo classico rivisitata un pochino qua lo possiamo vedere formato da delle pillole il logo classico lo rivedremo moltissimo nelle prossime stagioni passando invece alle illustrazioni troviamo wow fighissime sempre ispirate al mondo giapponese come da qualche stagione a questa parte abbiamo visto la possiamo vedere sia in variante bianca con logo con la grafica posteriore che nella versione nera sempre un po' un'eterna battaglia bianco o nero probabilmente adesso essendo ancora nella stagione estiva il bianco è quello che vince questa un'altra variante con loghino sul frontale di n dolino ar con boom mega graficone del dragone giapponese sul retro veramente fighissima lo c'è da dire che nelle grafiche secondo me sono veramente imbattibili sia variante bianca anche qua che nera ci tengo a precisare che la vestibilità di queste t-shirt è regular quindi attenzione se sovente comprate quelle oversize perché queste insomma la vestibilità è esattamente la taglia che voi indossate veniamo invece a questa qua che è la collaborazione con luca barcellona come già detto prima chi non lo conoscesse è un grafico e calligrafo di milano il più forte probabilmente nel suo settore la peculiarità è appunto il voler fondere l'antica arte della calligrafia con gli strumenti digitali moderni una cosa molto molto particolare che insomma vedrete ci saranno tantissime applicazioni strafighe bene qua è tutto sul sito queste cose non sono ancora presenti lo saranno nel futuro più breve vi ringraziamo per essere arrivati fino alla fine se avete bisogno di ulteriori dettagli basta che ci scrivete che ci contattate qua sulla nostra pagina vi mando un grande saluto a presto